La giovane vittoriese che a Randella ha investito e ucciso un tunesino di 36 anni era sotto l'effetto della droga, lo hanno stabilito gli esami clinici denunciate per omicidio colposo e omissione di soccorso. Non viene ricevuto dal manager dell'ASP a Ricoy sfumano 2 milioni di dollari, voleva donarle un miliardario benefattore americano che, stanco di fare anticamera, spazientito è andato via. Dopo le minacce al giornalista Paolo Borrometta arriva la solidarietà dell'Associazione Nazionale Avviso Pubblico. Per il vicepresidente Gurrieri devono muoversi lo Stato e i sindaci di costituirsi parte civile. L'onorevole Giorgio Assenza presenta un'interrogazione all'ARS per far ripristinare il servizio dell'Associazione Allevatori Siciliani, ovvero l'ARAS. Danni irreparabili, dice Assenza, per decine di famiglie siciliane. Nel sud Italia l'80% dei giovani sarebbe disposta ad emigrare. Lo sostiene una recente indagine demoscopica e la disponibilità a spostarsi è più alta per chi ha titolo di studio maggiore di altri. Benvenuto a un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Allora, alla fine è stata denunciata la giovane vittorese che la scorsa notte, incontrata a Randella, tra l'altro ucciso un tunesino di 36 anni, bracciante agricolo, poi si è costituita dai carabinieri. Gli esami clinici hanno infatti accertato che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Deve adesso rispondere di omicidio colposo e omissione di soccorso. Ammesso sotto un tunesino che procedeva sul ciglio della strada incontrata a Randella e ha evitato l'arresto solo perché si è recata in caserma dai carabinieri entro le 24 ore dall'incidente. Si tratta della giovane vittorese che in auto, assieme ad un'amica di ritorno da Marina di Ragusa, è stata però denunciata per omicidio colposo, guida sotto l'effetto di droghe o omissione di soccorso. Tutto questo in concorso con la compagna di viaggio, anche lei vittorese. Gli esami clinici alla fine hanno emesso la verità e i carabinieri, oltre alle perizie scientifiche, sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro. Dopo l'impatto, come è noto, le due giovani si erano date alla fuga per poi presentarsi dopo qualche ora in caserma. Sul cadavere del tunisino intanto, 36 anni e bracciante agricolo, non verrà effettuata alcuna autopsia. Per gli stessi militari dell'arma, purtroppo, le morti da incidente stradale sono troppe e nella sola provincia di Ragusa, l'anno scorso, ne sono state registrate ben 18 e quindi l'attenzione alla sicurezza stradale rimane sempre altissima e non solo nel fine settimana, quando c'è gruppi di giovani, spesso stanchi per la sarata trascorsa in discoteca, oltre che per aver assunto droghe e alcol, vanno poi incontro ad un tragico destino. Presso il cimitero di Vittoria, una salma di un rumeno sarebbe andato in decomposizione provocando un lezzo insopportabile all'ingresso della struttura. Gli addetti ai servizi cimiteriali in questi giorni lo hanno tolto dalla cella malfunzionante e sigillato in una cassa zingata pagata dall'amministrazione comunale ad una ditta di onoranze funebri in attesa che qualcuno si faccia avanti per trasportarlo in Romania. L'assessore Filippo Cavallo si è dato intanto da fare con estrema urgenza per ripristinare la funzionalità delle celle frigorifere. La ditta che effettua la manutenzione è intanto riuscita a riparare solo una cella, poi dicono ha dovuto fermare i lavori perché probabilmente sono finiti i finanziamenti. La Guardia di Finanza denuncia una truffa all'Inps per 130 mila euro. Protagonista una donna di 70 anni in ragusana per aver percepito indebitamente la pensione di irreversibilità del marito. La Guardia di Finanza di Ragusa ha denunciato alla Procura della Repubblica una donna di 70 anni per aver percepito indebitatamente la pensione di irreversibilità del marito. I finanziari di Modica, al termine di un'attività investigativa scaturita da una specifica segnalazione dell'Inps, hanno individuato attraverso l'incrocio di dati e analisi documentale una donna vedove di oltre 30 anni e che nonostante la morte del marito continuava a percepire indebitatamente la pensione del congi pari a 500 euro al mese, avendone perso il diritto dopo le seconde nozze. Le indagini hanno accertato che la donna, madre di tre figlie, si era sposata molto giovane, ma dopo pochi anni il marito è venuto a mancare lasciando al nucleo familiare la sua pensione di esercenti di attività commerciale. La donna dopo vari controlli si è denunciata e promessa comunicazione per aver indebitatamente conseguito il sussidio pensionistico per 26 anni per una somma pari a 130 mila euro. Rapina lunedì scorsa scoglitta ai danni dell'Agenzia della Banca Agricola Popolare di Ragusa, un malvivente si è presentato armato di taglierina alla cassa intimando lo sportellista di consegnare i soldi, poi andato via di corsa. In quel momento c'erano gli impiegati, alcuni clienti in maggioranza anziani perché era giorno di pagamento di pensione, sull'episodio indagano i carabiniere della locale stazione. Non viene ricevuto dal manager dell'Asp, Maurizio Aricò, e sfumano due milioni di dollari, protagonista dell'incredibile vicenda un benefattore miliardare americano di origine ragusane che è stanco di fare anticamere e poi è andato via. La vicenda è giunta sul tavolo del presidente della commissione all'Ars, Pippo Di Giacomo, che si è detto assolutamente certo di un disguido. È una storia che si candida a quella più inverosimile e tragicomida di questa strana estate 2015. Un miliardare benefattore americano di origine ragusane che aveva intenzione di donare due milioni di dollari all'Asp, dopo essere rimasta a fare anticamere a qualche ora in attesa del manager Maurizio Aricò, alla fine spazientito è andato via. Il manager ha invece dato una versione dei fatti diversa, ma sta di fatto che i dollari sono volati via e lui, Aricò, dovrà rendere conto il suo operato alla commissione dell'Ars. Il benefattore e Pippo Giuffre si sarebbe anche lasciato scappare una frase, ossia che neanche il presidente Reagan lo ha fatto aspettare così tanto. E il dottore Aricò cosa dice? Ho accolto il signor Giuffre e i suoi amici, li ho fatti accomodare alla sala d'attesa aspettando l'arrivo del legale dell'azienda sanitaria e, il tempo di arrivare, loro erano già spariti e non sono più riusciti a rintracciarli. Sulla vicenda è intervenuto in quest'ora anche il presente alla commissione sanità all'Ars, Pippo Di Giacomo, che, oltre a scusarsi con gli ospiti americani, si è detta assolutamente certo di un disguido estraneo al garbo e l'accoglienza alla terra iblea di Sguido, dice Di Giacomo, che sarà certamente chiarito nella sede opportuna. Aricò sarà quindi convocato in commissione all'Ars per chiarire ogni aspetto della vicenda che, al momento, sembra abbastanza paradossale. E sull'argomento interviene l'onorevole Nino Minardo, dice, se quanto abbiamo letto in quest'ora corrispondesse a verità, è opportuno e rispettoso che il direttore generale dell'Ars, Maurizio Aricò, chieda scusa pubblicamente alla collettività iblea. Lo ha dichiarato infatti l'onorevole Nino Minardo in merita alla vicenda della donazione dei 2 milioni di dollari all'azienda ospedaliera e quindi a beneficio della collettività da parte di Pippo Giuffre, emigrato di origine ragusane. Dopo le minacce sui social al giornalista ragusano Paolo Borrometti arriva la vicinanza alla solidarietà della situazione avviso pubblico. Per il vicepresente Piero Gurnieri servono risposte dallo Stato e i sindaci si devono costituire parte civile. In relazione alle gravissime minacce di cui nei giorni scorsi è stato destinatario il giornalista ragusano Paolo Borrometti, il vicepresente di avviso pubblico Piero Gurnieri gli ha espresso vicinanza e solidarietà dell'associazione. Già in passato, afferma Gurnieri, Borrometti ha subito a causa della sua attività di cronista inammissibili minacce anche sui social alla propria persona, a seguito delle quali abbiamo espresso solidarietà sia a lui che ai tanti cronisti che, soprattutto nelle periferie del paese, non hanno rinunciato al principio base della loro professione, ossia il diritto di denunciare e informare in modo pubblico il malaffare e l'intonerabile presenza delle mafie. Proprio Borrometti rileva ancora Gurnieri che ha avuto modo di raccontare in alcune sue inchieste e con tanti colleghi che, nonostante il clima pesante che si respira, non hanno smobilitato dal sud e dalla Sicilia per dire no al continuo inquinamento dei circuiti democratici e al condizionamento dell'economia legale. Per il vicepresente avviso pubblico è quindi compito dello Stato a questo punto studiare misure che mettono questi criminali in condizione di non nuocere, mentre i sindaci dovrebbero costituirsi parte civile. A proposito di solidarietà, c'è quella vittoria di istituzione sindacata ai due vigili urbani che nei giorni scorsi sono stati aggrediti da un giovane che nel corso di una sinistra stradale dapprima ha inveito contro di loro e poi è passata alle vie di fatto l'episodio avvenuto nei pressi di piazza. A primo maggio siamo vicini ai due tutori dell'ordine, scrivono CGL e RSU e alle rispettive famiglie e riteniamo questo episodio un segno inequivocabile di scarso senso della legalità e di mancanza di rispetto verso lavoratori impegnati nel difficile compito di tutelare l'ordine pubblico. Scoglitti è ormai in mano ai vandali e agli abusivi di ogni genere, si lamentano i residenti e villeggianti della frazione Ipparina che non si sentono adeguatamente tutelati e chiedono, si chiedono dove sono i controlli. L'estate di Scoglitti entra nel vivo e con essa anche le lamentele di residenti e villeggianti o almeno parte di essi. Dove sono i controlli si chiedono in tanti e perché da mezzanotte in poi sembra di essere una zona di coprifuoco? Gli ambulanti abusivi si sono appropriati del centro della frazione, i vandali la fanno da padrone distruggendo ogni cosa che capita a tiro, alcuni tra i più impavidi sono stati anche visti fare bisogni fisiologici sulla spiaggia per non parlare dei cani randagi che circolano liberamente tra via Malfavia Taranto e poi i cassonetti, che sono pochi, in alcune zone spesso straboccano, di rifiuto anche di giorno, del sospetto inquinamento del mare della Lanterna e dei vicoli lasciati all'incurio al degrado in quanto vicoli e quindi, ragiona qualcuno, non c'è bisogno che passino nel turbino a pulire. Scoglitti nell'estate di Grazia 2015 anche questa, ma anche con i locali che lamentano qualche assenza di troppo e i turisti che non si vedono un tempo attratti dalle regate veliche dalle sagre agroalimentari. La sera poi, unico diversivo, a parte le discoteche che in ogni caso bisogna scegliere con attenzione, rimane Piazza Sorella Arduino e i gruppi canori che cercano di animare, o sarebbe meglio dire rianimare i presenti, giovani e meno giovani, con la passione per la musica. Tutto il mondo però è paese, non vanno meglio le cose a Marina di Ragusa, dove non mancano la mentele per disservizi, problemi idrici e parcheggi. Si tratta anche in questo caso dei soliti irrisolti problemi estivi, tra blackout elettrici, carenza appunto di acqua, ambulanti abusive e quest'anno c'è anche la novità del lungomare costellato da strisce blu che quasi nessuno però utilizza. In compenso c'è chi apprezza la nuova pista ciclabile, pur se non mancano anche in questo caso le criticità. Ma torniamo a Scoglitti, dove in queste ore c'è nel mirino la condotta sottomarina, per l'assessore Cavallo non c'è nessun rischio di inquinamento. Lo stesso Cavallo intanto annuncia che è stata ha riparato la falla. L'assessore ai lavori pubblici Filippo Cavallo rende noto il risultato dell'ispezione della condotta sottomarina che porta all'argo le acque fognare pretrattate della frazione di Scoglitti. Dei controlli è risultato una falla di due centimetri e mezzo nel punto in cui la condotta si trova a 12 metri di profondità e circa 400 metri dalla costa. L'intervento per ripristinare il danno sarà predisposto nelle prossime 48 ore, quindi a breve la falla verrà riparata. Intanto il laboratorio di sanità dell'ASP7 ha inviato l'esito delle analisi effettuate il 31 luglio nei punti di monitoraggio, ossia spiaggia Capannina, spiaggia Telcabiano, circolo nautico a 200 metri allevante e 200 metri a ponente. I risultati sono confortanti perché rientrano nei parametri di balnearità e quindi non c'è alcun motivo per opporre il diveto di balneazione. Appunto come dicevamo c'è l'ultimore, la stessa assessore Cavallo che dice stamani è stata riparata la falla, i lavori sono stati eseguiti di buon mattino e già alle 8.30 sono stati ultimati. Ieri abbiamo chiesto all'ASP, prosegue ancora a Cavallo, di effettuare un ulteriore controllo sulle acque per accertare il rispetto dei parametri. Nel frattempo il sub incaricato tornerà nello specchio d'acqua della lanterna per monitorare ancora la condotta e verificare se vi sono altre perdite che al momento non si appalesano. L'attenzione conclude Cavallo è sempre alta perché la tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini ci stanno a cuore. Occorre intervenire a favore dell'Ares ripristinando il servizio e evitare così danni irreparabili agli lavatori siciliani. E quanto sostiene l'onorevole Giorgio Assenza che ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale all'agricoltura. Occorre scongiurare l'ennesima macelleria sociale nei confronti di decine di famiglie private della propria fonte di reddito, evitare danni irreparabili agli allevatori con la sospensione dei servizi da parte dell'Ares. E quanto chiede il deputato regionale Giorgio Assenza con un'interrogazione presentata all'assessore regionale all'agricoltura, proprio in merito al collasso organizzativo, finanziario e amministrativo, cui è vittima da diversi anni l'associazione regionale allevatoria della Sicilia. Nonostante questi cinque anni di commissariamento, prosegue il parlamentare Comisano, l'associazione che offre assistenza tecnica ad oltre il 70% delle aziende zootecniche siciliane non regista nessun miglioramento sia sotto il profilo gestionale che finanziario. Ciò ha recato notevoli danni agli allevatori in assistenza tecnica a seguito dello scadimento dei servizi e della dispersione di professionalità, come quella dei tecnici adibiti all'assistenza delle stesse aziende. Per cui la scelta dei vertici dell'Ares di licenziare 65 dipendenti, rimarca assenza e l'ennesimo duro colpo inflitto alla già applicare situazione della zootecnia siciliana. Il governo della regione, conclude il parlamentare Comisano, deve quindi intervenire al più presto per favorire il rilancio di questi servizi destinati al comparto zootecnico e soprattutto per salvaguardare i lavoratori dell'associazione allevatori. Dipattito politico in vacanze in questo periodo, in queste ore c'è solo un flash che riguarda le dimissioni dell'assessore Vincenzo Cilia. All'indomani di queste dimissioni c'è chi nel PD gli chiede di ripensarci. Si tratta del capogruppo Giulio Branchetti, secondo cui le dimissioni di Cilia rappresentano un indebolimento della giunta nicosia sia per il valore dell'uomo che per la capacità del politico. Spero, dice Branchetti, che le dimissioni possano rientrare perché la città ha bisogno di una persona onesta e capace come Enzo. Ci fermiamo, pubblicitado. Due notizie in apertura di seconda parte del Tg che riguarda l'aeroporto di Comis e spiaggia di Randello. Per i controllori di volo, per quanto riguarda l'aeroporto Piola Torre, infatti, è stata siglata, ira Roma, la nuova convenzione. L'accordo raggiunto con l'Einac e ci sarà il tempo sufficiente dunque per arrivare alla fine dell'anno. Poi, come è noto, nel 2016 i costi saranno a carico dello Stato, per cui i mesi a decorrere da oggi, al 31 dicembre 2015, saranno coperti, come è noto, con fondi regionali. E poi la vicenda della spiaggia di Randello. Adesso tocca alla sovrintendente di Ragusa, Rosalba Panvini, rispondere alle accuse del Comitato Randello Libera. Chi ci accuse è un mistificatore, dice la Panvini, perché noi abbiamo seguito le norme alla lettera, mentre spettavano al Comune gli accertamenti tecnici. Comune qui spetta accertare se il progetto sia compatibile o meno sotto il profilo urbanistico edilizio. E in ogni caso, conclude la sovrintendente, nessuna legge vieta strutture amovibili e non fisse. Nel sud Italia l'80% dei giovani sarebbe pronto a emigrare. Secondo l'indagine elaborata da un centro studi, la disponibilità a spostarsi è più alta per chi ha titolo di studio maggiore e cerca occupazione. I giovani dal sud Italia, quindi Sicilia compresa, sono le prime vittime della crisi economica e occupazionale che sta colpendo il mezzogiorno, situazione questa di incertezza che sta trasformando il loro rapporto col mondo del lavoro in maniera radicale. E infatti, pur di trovare un impiego, l'80% dei giovani meridionali si dichiara pronta a trasferirsi in qualsiasi regione italiana o addirittura all'estero e già si parla di nuova generazione di migranti. E quanto emerge da una recente ricerca su un campione di 5.000 giovani tra i 19 e 32 anni? Secondo l'indagine la disponibilità a spostarsi è più alta per chi ha titolo di studio maggiore. Ciò significa che la mobilità tende a impoverire non solo quantitativamente ma anche qualitativamente la presenza dei giovani è il territorio di origine e la decisione di sportarsi sarebbe legata non solo alle minore opportunità di trovare lavoro ma anche alla più bassa qualità e anche soddisfazione per i vari aspetti del lavoro svolto. In particolare il 73% di chi ha solo la scuola dell'obbligo è disposto a trasferirsi stabilmente contro l'86% dei laureati e solo il 43% invece chi ha titolo basso è pronto ad andare all'estero contro il 52% sempre dei laureati. E la sfida è quella di costruire alla fine condizioni migliori per rimanere fuori oltre a quelle per riattrarre chi è andato a studiare o a fare esperienza di lavoro al nord o oltre confine. Ma alla fine a fare la differenza tra nord e sud ed è abbastanza risaputo sono sempre le opportunità di trovare lavoro e in questo caso al nord stanno sicuramente molto molto meglio. Cara Montegulfi festeggia oggi due centenari. Si tratta della signora Biaggia Catania e del signor Salvatore Roccalumera entrambi classe 1915. La signora Catania ha festeggiato il fatidico traguardo nel centro di Santa Teresa assieme all'unica figlia e alcuni parenti mentre il signor Roccalumera ha festeggiato la ricorrenza circondato dall'affetto dei tre figli e nipoti e pronipoti. Il calcio col Modica che passa finalmente finisce quindi la lunga telenovela ad una accordata di Acate. Contattato Gaetano Lucenti come tecnico lunedì dovrebbe iniziare poi un raduno precampionato. Il Modica Calcio è passato di mano e nello specifico da un gruppo di Acate da anni inserito nel mondo calcistico dilettante. Si parla anche di allenatore e l'orientamento sarebbe verso Gaetano Lucenti anche se ancora presto per mettere nero su bianco. Si è quindi conclusa finalmente la lunga odissia del Modica Calcio con la società Rosso Blu che si darà ovviamente un nuovo organigramma. Presidente intanto è Gianni Iacono ma la cosa più importante è che il club calcistico continuerà a pulsare sul terreno di gioco del Caetina. Dopo aver intanto perfezionato l'iscrizione al prossimo campionato di eccellenza saranno approfonditi tutti gli altri aspetti inerenti alla conclusione della trattativa. Al momento la sola certezza è quella che si giocherà col titolo del Modica per la prossima stagione agonistica. Se poi ci saranno le condizioni si potrà rimanere a Modica diversamente si valuteranno altre possibilità. Per quanto riguarda il nuovo allenatore come si diceva nelle prossime ore si dovrà contattare appunto lucenti poi ci sarà da stabilire il raduno per campionato che a meno di clamorose novità avrà inizio lunedì 10 agosto in sede. Adesso il repito dei fatti nel primo piano. La giovane vittoriese che a Randella ha investito e ucciso un tunesino di 36 anni era sotto l'effetto della droga. Lo hanno stabilito gli esami clinici denunciate per omicidio colpose e omissione di soccorso. Dopo l'impatto mortale la donna, vittorese come l'amica che era a fianco con lei, si era data alla fuga ma dopo qualche ora si era consegnata ai carabinieri. Sul cadavere del tunesino intanto non verrà effettuata alcuna autopsia. Non viene ricevuto dal manager dell'ASP a Ricoye sfumano 2 milioni di dollari. Voleva donarlo un miliardario benefattore americano che, stanco di fare anticamera, spazientito è andato via. L'incredibile vicenda è finita alla commissione sanità dell'ASP col presente tipo di Giacomo, che si è detto certo di un disguido. Il manager a Ricoye ha invece sostenuto che il benefattore miliardario è andato via subito senza aspettare il legale dell'ASP di Ragusa. Dopo le minacce al giornalista Paolo Borrometta arriva la solidarietà dell'Associazione Nazionale Avviso Pubblico. Per il vicepresidente Gurrieri devono muoversi lo Stato e i sindaci costituirsi parte civile. Già in passato a fermare il vicepresidente di Avviso Pubblico, lo stesso economista ragusano, ha subito inammissibili minacce sui soci e a lui, come a tanti suoi colleghi, dice Gurrieri, fa la nostra vicinanza e solidarietà e per Gurrieri lo Stato deve dare immediate risposte. L'onorevole Giorgia Senza presenta un'interrogazione all'ARS per far ripristinare il servizio dell'Associazione Allevatori Siciliani, ovvero l'ARAS. Danni irreparabili, dice Assenza, per decine di famiglie siciliane. Per il parlamentare regionale comisano occorre scongiurare l'ennesima macelleria sociale nei confronti di numerose famiglie di allevatori siciliani. Nel mirino di Assenza anche il recente licenziamento di 65 dipendenti dall'Associazione Allevatori. Nel sud Italia l'80% dei giovani sarebbe disposta ad emigrare. Lo sostiene una recente indagine demoscopica e la disponibilità a spostarsi è più alta per chi ha titolo di studio maggiore di altri. La decisione di lasciare la terra d'origine è dovuta principalmente alle scarse opportunità di trovare un impiego ma anche alle poche soddisfazioni per i vari aspetti del lavoro svolto e la sfida è quella di costruire migliori condizioni lavorative anche all'estero. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.